Ciao, sono Nicola, mi chiamo Mariccia e ho soggiornato al Dream Lagoon, Carlo e Lucia, mi chiamo Serena, sono Olivia e è stata una bellissima settimana, mi chiamo Fabrizia, vengo dall'Italia, mi chiamo Piero, mi chiamo Stefano, mi ho fatto un po' di immersione su pacque e camminate, che nuotate, da rifare, da rifare senz'altro. Questo è stupendo, gli allenatori anche, ciao ciao, spero di ritornare presto. È il mio primo viaggio che sarà indimenticabile, il mare è stupendo, la gente è molto gentile, molto cordiale. Consiglio quella, la cena nel deserto, si assaggia il caffè, i formaggi beduini, col pane fatto da loro e poi tutto termina con una bellissima cena, e buonissima cena, presso la tenda beduina. Un cibo molto buono, pensavo peggio, basta, escursioni molto, molto carine, tutto perfetto. Siamo stati molto bene, abbiamo preso una settimana con un clima bellissimo, il mare davanti ai villaggi sono bellissimi, i tre villaggi sono bellissimi, abbiamo mangiato bene, molto pulito, è la mia terza volta qui a Marsalane, la volta che mi è piaciuta di più. La settimana che abbiamo trascorso qui è stata veramente divertente, rilassante, tutti sono stati molto gentili, molto naturali come persone e sono stato contento di aver scelto questo albergo e i sette mari per trascorrere questa settimana. È stata una settimana fantastica, mi sono divertito molto, non volevo venire sul Mar Rosso, però mi sono ricredito molto, è stato bellissimo, grazie. Ciao a tutti. Un saluto. Un saluto. Ciao a Foriana. Ciao. Un saluto all'Italia. Un saluto a tutti. Ciao, ciao. 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 Ciao a tutti. Ciao, state bene, tornate tutti, potete venire tutti perché è una bellissima vacanza. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti